Quando vuoi? Allora, ho visto una squadra che è rimasta in 10 dopo un quarto d'ora e che per tutto il secondo tempo, in 10, non ha fatto uscire gli avversari dalla metà campo. Non sono mai uscita dalla metà campo. Una squadra che ha lottato 60 minuti su ogni pallone, in uno in meno. E non ho sentito un cazzo di applauso finita la partita. E non mi riferisco a solo i tifosi. Mi riferisco a tutti. E allora, se pensiamo che questa squadra sia Real Madrid e di vincere ogni partita, non è così. Non è così. Questa è una squadra che deve essere aiutata. È una squadra che arriva da tre vittori di fila. Settimana scorsa ha pareggiato una partita che doveva vincere 6 a 1. Questa domenica è rimasta in 10, in casa solo dopo un quarto d'ora e per 80 minuti ha lottato su ogni pallone. E gli altri non sono usciti dal metà campo. Per un tempo. E non sento applausi. La gente che ci dice sveglia. C'è bisogno di tutti, eh. In una piazza del genere per vincere un campionato c'è bisogno di tutti. Perché vincere un campionato non è una cosa scontata. Le squadre vengono qua e ci fanno la guerra. Sono in 10 in area di rigore. Non è facile vincere. Neanche se siamo più forti. È perché non siamo Real Madrid. Però non accetto che venga detto sveglia a questa squadra dopo questa prestazione. Perché a Fontanelle siamo stati zitti con la testa bassa. Perché ci meritavamo quello che ci veniva detto. Oggi no. Oggi no. E non è giusto. Oggi no.